Buona giornata a tutti. Siamo sotto l'acqua nel senso che piove da ormai 4-5 giorni. Il post sta crescendo ma non lo vediamo ancora quindi vuol dire che la situazione è ancora abbastanza tranquilla. Parliamo di due partite della Cremonese, parliamo della vittoria della scorsa settimana a questo punto qui contro Lentella 2-1. Parliamo del pareggio di ieri con il Brescia 2-2, due partite in cui la squadra ha dimostrato di essere perlomeno grintosa, coraggiosa e di carattere e due risultati che portano la classifica avanti di 4 punti. Ieri poteva essere una vittoria con il Brescia, purtroppo è arrivato il pareggio troppo presto e la squadra non è riuscita poi a segnare ancora. Comunque una bella partita su un terreno di gioco abbastanza complicato. Ne parliamo a basporto, abbiamo tre ospiti perché è ovviamente turno infrasettimanale anche per noi. Alla mia sinistra Pietro Trentolini che conoscete bene e che poi ci parlerà anche dei giovani, visto che un anno fa dicevamo le stesse cose, parla dei giovani della Cremonese. Alla mia destra Michele Francesco, collega che segue la Cremonese e il basket e alla mia destra ancora Luca Zava che è stato un grandissimo atleta, uno dei migliori atleti della nostra realtà in atletica leggera e che adesso fa il preparatore atletico a Sesto 2010, squadra di calcio di prima categoria. Benissimo, fatte le presentazioni, entriamo subito nel vivo della trasmissione. Nel vivo vuol dire parlare di due partite. Allora, quattro punti Pietro, direi che si può anche essere soddisfatti nonostante tu sei comunque critico su alcune scelte dell'allenatore. Io direi che allora, i primi 60 minuti della partita contro Lentella non vedevo una Cremonese così dall'anno scorso dopo il lockdown. Purtroppo dopo lui fa dei cambi che per me sono incomprensibili, sono incomprensibili perché io non vedo, mi dispiace ma io Ciofani a me non piace e vedo che qua da un anno non fa niente, cioè non vedo il Ciofani di Frosinone. Ha un blocco mentale, un blocco fisico. Ci sono passati anche un po' di anni. Ci sono passati un po' di anni. Alla sua età io però vedo che lui è entrato e Lentella ha segnato per un autogol sfortunato in Valzania e però ha cominciato a giocare. Cioè quest'uomo probabilmente non è considerato neanche nel campo dagli avversari, questo giocatore dico. E lì contro Lentella. Ieri l'ha messo in campo e scusatemi non ho ancora capito il tiro che ha fatto al limite dell'area. Cioè non sapevo se era un passaggio a Pestrizzolo o un passaggio alla bandierina come contro Vicenza. Non si è ben capito quel tiro lì. Sì, qui finiamo la prima fase e questo dimostra come Pietro Tantolini sia fra virgolette il nistolatore, cioè quello che fa polemica anche sui social perché poi lui controbatte e quindi si avviano discussioni lunghissime. Michele, partita di due partite, allora parliamo di quattro punti importanti, tutto sommato noi come abbiamo previsto in queste partite. Sette punti in tre partite. Potrebbero arrivare, quindi ci siamo abbastanza bene. Ecco, la partita di ieri ha dimostrato che il Brescia che è una squadra che comunque al di là di tutto, al di là delle malattie, al di là dei problemi societari, è una squadra costruita con buoni giocatori. Torregrossa è di categoria superiore, De Sena ha giocato fino all'anno scorso in Serie A. Insomma, diciamo che è una bella squadra in ogni caso. E quindi il risultato di ieri, secondo me, poteva essere anche a favore della Croneggia, però tutto sommato è giusto. Sì, il risultato è equo per quello che si è visto in campo. C'è il rammarico di aver di nuovo subito due rimonte e questo riporta il problema a momenti di concentrazione, ad errori individuali. Il primo, a mio avviso, è davvero difficilmente perdonabile perché è un errore di posizionamento della barriera ed è responsabilità completa del portiere, il posizionamento della barriera. Ora è chiaro che diciamo sempre, quando il portiere sbaglia, te ne accorgi perché prendi gol. Certo, da un Alfonso, magari questo errore di base, in un momento soprattutto come questo, dove bisogna stare molto attenti ai particolari, perché da lì nascono le azioni da gol degli avversari e la difesa non è più impenetrabile come quella dell'ultima fase del campionato scorso, non te ne aspetteresti. Sì, stavo dicendo a 32 anni dovrebbe essere esperto, poi mi viene in mente Buffon ieri sera e quindi mi vengono in mente le parate di uno che di anni ne ha qualcuno in più. Luca, intanto, chi è Luca Zava? Cosa ha fatto Luca Zava? Io ho sempre giocato calcio fino da ragazzino, poi dopo ho terminato il calcio, ho sempre stato il classico calciatore da centrocampo, correvo un sacco, mi piaceva correre, giocavo mediano e allora ho cominciato a correre, praticamente ho cominciato a correre e nell'arco di 11 anni ho cominciato con le maratonine, maratone, poi ho partecipato a un sacco di ultramaratone, tra cui la Tene Sparta, la Nove Colli, ho partecipato ai mondiali di 24 ore in Repubblica Ceca, per la Nazionale, ho fatto diverse cose della corsa, che mi ha affascinato perché venivamo via dal mondo del calcio in cui l'ambiente era molto più, diciamo, di nistole, parlavi di nistolate così, mentre il podismo era fatto solo di fatica, di fatica per te stesse, individuale, certo. Pietro, parlavamo qui qualche mese fa, perché noi dicevamo l'anno scorso, è vero l'anno scorso, ma abbiamo cominciato il campionato, abbiamo ripreso il campionato dopo lungo tempo. Parlavamo dei giovani, Bisoli ha ascoltato, diciamo le tue parole, oggi abbiamo quattro giocatori regolarmente in prima squadra, ieri Bernasconi in panchina, Bia in panchina, Ghisolfi in panchina e quindi vuol dire che insomma in fondo si comincia a pensare anche al futuro dei giovani. Grigiorossi. Eh io, guarda, sono contento che l'hai fatto notare, io non sono nessuno, perché lo sapevano gli stessi dirigenti da Cremonese, il potenziale che c'è e non ci sono appena loro, ci sono già altri ragazzi molto più giovani, già diciamo veramente di un livello alto, questi qua che ci sono già. E anche Schirone ieri c'è in panchina. Sì, sì, Schirone, ma io sto parlando già di russo, se vuoi ti faccio altri nomi, io sono già quelli del 2004, 2007, già, che poi vengono seguiti dalle top squadre, cioè questi ragazzi qua sono seguiti dalle top squadre. La mia speranza è vederli prima che vadano nella top squadra, nella prima squadra della Cremonese, come facciamo un discorso quest'anno a gennaio sempre qua. Di ritornare al tempo di Erminio Favalli, cioè io con l'avvento del signor Braida, visto i talenti che ha scoperto anche nel settore giovanile del Milan, Totto Maldini che lo scopriva anche un cieco come me, nel senso tra una battuta, nel senso un maestro, gli altri li ha trovati lui, gli Albertini. Uno che porta Van Basten in Italia, quello che ha trovato lui nel mondo, Pato, Cacà, cioè quelle... Certo. È una persona che... Quindi tu insomma sei convinto che possa intervenire su questo tipo di settore? Per me, io sono convinto dalla mia umile piccola esperienza, io sono convinto che quando la Cremonese avrà una leggera classifica, una migliore classifica, questi ragazzi verranno inseriti piano piano. Ecco. Perché è giusto che sia il momento, anche perché dobbiamo togliersi la mentalità che il giovane deve entrare quando la squadra è alto, cioè il giovane deve maturare anche quando la squadra è in crisi, come fanno in Spagna. Sì, quindi nelle difficoltà. La Juve è vinto 3-0 però c'erano quattro ragazzi di 17 anni, in Champions, è venuta a Torino con quattro ragazzi di 16 anni e ha vinto e ha dominato la Juve all'andata. Se vogliamo migliorare il calcio italiano, e Mancini sta facendo quello con la Nazionale, con i vari Barella, devi puntare sui giovani. Ecco perché io dico, hai Celar, io voglio vedere Celar come giocava Roma. Centro avanti, punta. Non lo vede, non lo vede perché dice che non è il fisico del centro avanti, almeno questo quanto ha detto Bisoli. Ecco Michele, due partiti in cui comunque abbiamo visto, il gioco era difficile su quel terreno lì, però abbiamo visto una squadra che ha avuto coraggio e ha avuto soprattutto voglia di lottare, perché anche ieri, anche se a Dazon mi pare abbiano detto, io non l'ho sentito perché ero allo stadio, che non è stata una partita spettacolare, io dico 2-2 su un campo così e in quelle condizioni, per me è stata una grande partita, la partita di una volta. Sì, sì, ma anche perché cercare lo spettacolo su un pantano è un po' dura, ma al di là di questo si vede che la squadra fa quadrato intorno all'allenatore, nonostante la sua posizione come avviene quasi sempre, in quelle situazioni sia o sia stata pericolante. Diciamo che in questo momento la squadra sta facendo quasi tutto quello che deve fare, rimangono quelle amnesie che paghiamo ancora troppo care. Sul discorso Ciofani mi ricollego a quello che dicevi in risposta a Tentolini, su Selar che a detta di Bisoli sembrerebbe non avere, questo è il suo punto di vista, il fisico. Io dico solo, Ciofani può avere tutto, può mancargli tutto ma il fisico ce l'ha, però i risultati sono quelli. Io preferisco un centro avanti che non sia distanza ma la metta dentro di uno che ha il fisico e poi i risultati sono questi. Beh, ieri ha fatto un grande gol, in effetti Selar è entrato, ha fatto un gol, secondo me, una perla. Infatti la Gazzetta dice nel titolo di oggi, il pezzo è di Matteo Breghe inviato da Milano, Cremonese-Brescia, Pari nel derby delle Prodezze, doppia botte risposta, con Perle di Selare e Sena, Bisoli avanza, Castaldello oggi lascia il posto di Onigi. Ecco, Luca, giocare su un terreno del genere, nel fango, sotto la pioggia costante, quindi non è che ci vedi benissimo quando piove, in una situazione anche di difficoltà di classifica, cosa significa? Soprattutto giocare ogni due o tre giorni, quindi che recuperi puoi avere dal punto di vista atletico? Certo, certo. Infatti loro venivano, hanno giocato ieri e avevano giocato sabato un'altra partita, sempre con le stesse condizioni del terreno, per cui è difficile anche chiedere, come dicevate voi, appunto un calcio champagne, un calcio fatto di passaggi, un calcio di passaggi precisi. Per cui secondo me hanno dimostrato, io ho intravisto le immagini, dimostrato di metterci il cuore, per cui è difficile recuperare. Ovviamente lo staff di preparatori atletici della squadra avrà agito in modo, avrà fatto degli elementi leggeri per recuperare la partita di sabato e poi come dici tu, martedì giocano ancora qua a Cremona, per cui dicono che il tempo sarà ancora così, per cui è difficile. Secondo me si sono comportati molto bene a livello atletico, per cui secondo me dimostrano che sono, diciamo, atleticamente preparati. Ecco, Pietro parliamo di due partite giocate, quattro punti, due partite da giocare sabato in casa contro l'Ascoli che ha perso ieri con il Pisi in recupero e poi la partita di martedì a Empoli contro una squadra che è partita bene ma adesso ha qualche momento di rallentamento. Cosa dici? Io l'Ascoli l'ho seguito, sia venerdì contro Pescara che ieri dopo la Cremonesi, proprio per una mia cultura personale. E ha giocato bene? Ha giocato bene, giocavo in un campo migliore del nostro perché il nostro, scusate faccio la battuta anche perché siamo imbissolati, hanno giocato due partite a pallanuoto, non hanno giocato a calcio, se dobbiamo essere sinceri al 100%. Se il campo, adesso dicono oggi piove, domani piove, venerdì c'è un attimino bello e sabato, visto che noi abbiamo un signor campo con un drenaggio veramente favoloso, magari se riescono a giocare come hanno giocato nel campo pesante di Pisa, l'Ascoli ha giocato bene però ha una difesa veramente inguardabile. Vingeva 1-0, ha fatto un cambio molto semplice, ha tolto Sodimo e ha messo dentro Vido. Vido è entrato, ha cambiato la partita, ha segnato subito e ha fatto il 2-1 e ha vinto Pisa 2-1. È un'altra concorrenza. Ecco, Michele, quale giocatore è emerso in questo fango, in queste giornate di pioggia terribile? Mettendo tutto insieme viene facile dire strizzolo perché ha segnato tre gol. Tre gol, certo. Ieri magari ha faticato molto. Ieri aveva un problema alla coscia. Però è un giocatore che su questi terreni può dire la sua. Ecco, l'ultimissima, Luca, allora come va la squadra di calcio che adesso non gioca? Purtroppo abbiamo cominciato la preparazione atletica, abbiamo cominciato 4-5 partiti e poi ci siamo fermati perché appunto c'era questa situazione. Però i ragazzi sono bravi, abbiamo affrontato la prima categoria l'anno scorso, abbiamo interrotti ancora a marzo, però eravamo a metà classifica. Per cui ci saremmo salvati, ci siamo buoni. Corrono, si impegnano, sono bravi. Siamo veramente in chiusura, anche se essendo i quattro gli spazi sono ovviamente limitati per tutti. Noi ci vediamo ancora mercoledì perché? Perché la Crenuzio gioca sabato in casa alle 2 contro l'Ascoli e poi rigioca martedì sera in anticipo alle ore 21 a Empoli. Quindi due partite, noi ci ritroviamo mercoledì prossimo sempre alla stessa ora, ovviamente gli sponsor saranno sempre con noi, il vino oggi vediamo che tipo di vino abbiamo, abbiamo un Lambrusco Mantovano del vitigno valdanese in purezza dalla cantina di Viadana e quindi noi siamo ancora pronti a parlare di giovani, poi ne parleremo ancora più avanti, Tentolini lo faremo polemizzare ancora in altre circostanze, parleremo ancora di Cremonese, di due partite sperando che arrivino perlomeno sabato sera i 7 punti che avevamo previsto. Grazie e buona giornata a tutti, un brindisi e naturalmente una salute a tutti sperando che smetta di piovere. Grazie.